Fanta politica, i diretti interessati risponderebbero così, non i loro fidati consiglieri in camera Caritatis che invece confermano lontano da tacquini e microfoni. Petracca potrebbe candidarsi alla provincia il prossimo anno. Buonopane sta lavorando alla sua riconferma. Le regionali sono nel 2025 e potenzialmente anche a quelle elezioni sono entrambi interessati ma il cortocircuito è in corso e ciò che riserva il futuro è imprevedibile. Petracca dovrebbe rinunciare all'ultimo anno di consigliatura regionale per poter guidare Palazzo Caracciolo se eletto è un altro degli elementi da tenere nel ragionamento ma manca davvero tanto e possono cambiare anche le leggi, si vedrà. Se due figure fondamentalmente esterne al PD entrano nel partito per rinnovarlo e si ritrovano a duellare è probabilmente la gestione del PD stesso a porre gli interrogativi più profondi e non da oggi. Un cortocircuito emblematico è il caso rifiuti. Il PD dice ai suoi sindaci di votare per il bilancio al lato. Buonopane in assemblea dice di votare contro perché esiste un'alternativa. Non si sono parlati prima e la causa sta appunto nei contrasti di fondo. Non ci fa una bella figura a suo malgrado il segretario provinciale che da tempo prova a ricucire. La soluzione prima o poi si troverà. I rapporti cambiano e in politica ciò che è vero oggi non lo è domani. A proposito per Petracca si profila una possibile promozione in regione. Lui che ha contribuito all'elezione di Piero De Luca ma non ha trovato posto in un rimpasto in giunta che premiasse lo sforzo potrebbe andare ad occupare la casella di presidente della commissione regionale agricoltura lasciata vacante da Emilio Borrelli passato in Parlamento. Italia Viva permettendo e lascia passare dell'assessore al ramo Nicola Caputo. Ma questa è altra questione di alleanze. Non c'entrano almeno stavolta le guerre interne al PD.